Dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi sull'emergenza idrica nella zona industriale di Catania da parte dell'Associazione di Imprese, Zicra e Industria, è l'invito alla Prefettura, la Regione Siciliana, l'IRSAP, il Comune di Catania e Sidra a intervenire questa mattina in Prefettura alla conferenza di servizi. Un'emergenza, quella idrica, che le aziende vivono da anni a causa della mancata manutenzione della rete idrica IRSAP. Nella zona manca l'acqua sia per la fornitura industriale che per uso potabile. Le aziende sono costrette così a provvedere autonomamente tramite forniture ad intermittenza con autobotte. Denunciata anche la carenza di risorse antincendio che l'ente preposto, IRSAP, dicono non è stato in grado di risolvere.